Buonasera a tutti, è il primo incontro del 2022 con gli autori che riprende con un personaggio molto importante, l'ambasciatore Emilio Barbarani, autore di libri tra i quali chi ha ucciso Lumi Videle, la via dei topi sulle tracce dei nazisti in Argentina, ma questa sera parleremo dell'ultimo suo libro, Stelle lontane della Croce del Sud. L'ha chiamato romanzo, ma di romanzesco mi pare che non c'è niente, è proprio un'autobiografia. Paolo, mi poni già in imbarazzo cogliendo la realtà. Scrivo queste stelle del Sud, la Croce del Sud, questa volta per gli adulti, non per i bambini, è la storia della mia famiglia, degli italiani in Argentina, in Buenos Aires e soprattutto a Pedro Luro e finalmente di un mondo che ormai sta scomparendo. Un'altra cosa molto bella del libro è lo scontro di stati d'animo tra gli adulti che sono costretti a gestire tragedie su tragedie, all'entusiasmo dei bambini, a questa voglia di avventura. Paolo, è una dicotomia regnante dalla prima pagina all'ultima. Grazie. Grazie.